Iniziamo questo Alta Gamma Market Focus sul Brasile, è il secondo di una serie di seminari che Alta Gamma ha iniziato questa primavera, in particolare a metà maggio abbiamo organizzato il primo degli Alta Gamma Market Focus dedicato al Medio Oriente, ai paesi dell'area del Golfo. Abbiamo pensato che fosse interessante parlare di mercati meno conosciuti che peraltro sono estremamente interessanti perché o sono già importanti o hanno un alto potenziale di crescita per quanto riguarda i consumi di prodotti dell'alto di gamma e il Brasile è sicuramente come vedremo un mercato a straordinario potenziale per una serie di ragioni. Nel 2012 ci occuperemo di altri tre mercati che saranno la Turchia, la Corea del Sud e la Russia. Seguiamo un certo tipo di format che tra breve illustrerò invitando il primo dei relatori la ragione per cui riteniamo che questi tipi di seminari siano interessanti sono sostanzialmente tre. Da un lato abbiamo l'opportunità di valutare quali sono le differenze culturali, organizzative, le condizioni quadro e mi riferisco al problema in molti di questi mercati di barriere tarifarie e non tarifarie che tra parentesi sono particolarmente rilevanti nel caso del Brasile. Ma ci sono delle differenze in questi paesi proprio sulla cultura, i costumi, i consumi dell'alto di gamma e proprio perché ci sono differenze culturali, tradizioni estetiche, modi di vivere che sono assolutamente peculiari. Noi siamo convinti che la globalizzazione debba occuparsi delle diversità culturali, le imprese alta gamma sono campioni nella gestione dell'adattamento della loro offerta, della loro gamma di prodotti, del modo di comunicare, di vendere e di promuovere proprio in termini di adattamento alle diversità locali. Ecco, io credo che forse per questa ragione abbiamo avuto anche in questo caso un numero di iscritti superiore alle disponibilità di spazio per ragioni di sicurezza che riguardano questa bellissima sala Cenacolo in cui dei padri olivetani nelle quali alta gamma tiene sei o sette riunioni all'anno in parte aperte e nella maggior parte chiuse e riservate agli amministratori delegati delle imprese alta gamma. Dicevo che il format è in questo senso. Abbiamo una prima visione generale di tipo socioculturale e tra breve chiamerò Paolo Anselmi vicepresidente di GFK Eurisco che ci darà questo importante contributo. Abbiamo quindi un intervento di Claudia D'Arpizio che ci dà un overview sul mercato perciò di tipo fondamentalmente quantitativo, prende le misure del mercato sia all'oggi e al medio termine. E abbiamo ogni volta, invitiamo un honorary member, un rappresentante di un'impresa, membro dell'Alta Gamma International Honorary Council, come sapete sono 94 gli honorary members di Alta Gamma e coprono tutti i continenti e tutti i settori merceologici. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carlos Geressati che è il CEO di Iguatemi che è il luxury shopping mall, anzi direi la catena di luxury shopping mall di gran lunga più importante nel Brasile, diciamo l'unica a livello di alto di gamma, giovanissimo, bravissimo, ha rivoluzionato un'impresa familiare che è stata iniziata 45 anni fa da suo padre e conta mi pare allo stato attuale già 13 shopping mall Iguatemi in Brasile. Dopo di lui avremo un panel a cui parteciperanno tutti i relatori e anche tre rappresentanti di imprese che conoscono particolarmente bene il mercato brasiliano e sono Diego Stecchi che è responsabile del mercato dell'America Latina per Salvatore Ferragamo, il dottor Cavallari che è responsabile worldwide di Tecnogym e Piscitelli di Floss che si occupa come sapete di lampade, per cui tre settori molto diversi, un'impresa del settore del design, un'impresa del settore della moda e un'impresa nel settore del fitness, in modo tale da offrire la loro esperienza e il loro punto di vista sulle potenzialità e gli ostacoli che ci sono allo sviluppo nel mercato brasiliano. Vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo e chiedo subito a Paolo Anselmi di salire sul palco per presentarci il suo punto di vista sulla situazione socio-culturale in Brasile. Grazie, come ha detto bene Armando Branchini dell'introduzione, la globalizzazione richiede una comprensione attenta di quelle che sono le peculiarità, gli elementi distintivi dei mercati in cui si va ad operare. I mercati sono culture, sono socio-culture e quindi mai, lo sappiamo, si deve compiere l'errore di pensare che in associazione ad un processo di crescita economica l'evoluzione culturale vada necessariamente nella direzione in cui sono andati i paesi che prima sono arrivati a questi livelli di benessere e di consumo. Il compito che a me spetta questa mattina quindi è quella di dare alcuni elementi, spero utili, a comprendere quali sono gli elementi che, alcuni degli elementi che caratterizzano la cultura, prima ancora che la cultura di consumo, la dimensione socio-culturale di fondo della società brasiliana e alcune direzioni evolutive. Per farlo utilizzo i dati di due ricerche che noi conduciamo ormai da più di 10 anni in modo continuativo in un numero considerevole di paesi. La prima è una ricerca sui consumer trend, sui valori e gli stili di vita in 25 paesi, la seconda sui trend sociali. I paesi che sono considerati sono questi, tra i paesi del Latin America abbiamo oltre al Brasilia anche l'Argentina e il Messico, come vedete sono rappresentate le principali region e questo serve poi anche a cogliere quelli che sono gli elementi distintivi rispetto al resto del mondo diciamo di un paese, che è un'analisi che si fa abitualmente. Questo è uno strumento innanzitutto utile a capire qual è il profilo culturale. Noi misuriamo l'adesione a 60 valori, 60 valori vengono misurati in tutti i paesi. Quelli che vediamo in questa slide sono i 15 valori che caratterizzano la società brasiliana, ovvero quelli ai quali i cittadini del Brasile, i consumatori del Brasile, dichiarano di aderire con maggiore convinzione. I numeri che vedete non sono ovviamente percentuali ma sono indici di concentrazione, cioè ci dicono quanto è forte, quel valore, quanto è condiviso rispetto a una media che è quella degli altri paesi rilevati nella ricerca. La cosa interessante che si vede scorrendo questo elenco è che la società brasiliana presenta una interessante e originale combinazione di valori che appartengono a socioculture abbastanza differenti. Ci sono dei valori di tipo tradizionale, il primo è la fede religiosa ad esempio, che è ancora un valore diffuso nella società e nella cultura brasiliana, ci sono però poi, come vedete, un numero elevato di valori che rimandano ad una dimensione, diciamo, edonistica, del piacere della buona vita, dal looking good, having fun, being youthful, excitement, beauty, una vita variata, godersi la vita. Quindi questo è, io direi, il tratto che oggi più di altri caratterizza la società e la cultura del Brasile. Anche perché questi sono valori che negli ultimi anni sono in costante e graduale crescita. Non trascurrei però anche il fatto che ci sono dei valori di sensibilità sociale, social tolerance, ma in particolare poi la sensibilità ambientale, che in Brasile sono più presenti che in altri paesi. A questo proposito, rapidamente, questo è il grado di preoccupazione per la tematica ambientale. Vedete che il Brasile, su questo item, su questo indicatore, la preoccupazione per l'inquinamento ambientale, è al primo posto su più di 20 paesi. E questo vale anche per la preoccupazione sul cambiamento climatico e sull'esaurimento delle risorse. Questo è un punto importante perché oggi si parla molto, e le aziende ne parlano molto, quando si rivolgono al consumatore, di sostenibilità, di responsabilità sociale e ambientale. Ecco, dai nostri dati credo che si possa dire che il consumatore brasiliano è un consumatore attento a questi aspetti e quindi pronto anche a riconoscere e ad apprezzare non solo messaggi che vanno in questa direzione, ma anche prodotti e servizi che tengono conto dell'aspetto della sostenibilità. Passando ad un indicatore che io considero molto, forse uno dei più interessanti, che ci dice qualcosa di importante su quello che è oggi il sentiment dei brasiliani. Questo è una batteria di domande in cui si chiede alle persone di dire quanto si sentono vicine alla propria cultura, la cultura europea, la cultura americana e così via. Naturalmente la propria cultura è quella che riceve ovunque il livello più elevato, non solo, è quella che negli ultimi dieci anni, dal 2001 ad oggi, ha incrementato maggiormente il grado di consenso. Esattamente quello che diceva Armando Branchini nell'introduzione. La globalizzazione stimola da una parte l'apertura alla diversità e l'interesse per le altre culture, ma stimola anche fortemente l'identificazione e il senso di appartenenza con la propria. È un fenomeno che vale per tutti i paesi, sta crescendo da una parte l'interesse per le cucine e altre, ma cresce anche l'interesse per le proprie tradizioni alimentari. I due fenomeni non sono assolutamente in contraddizione, anzi vanno di pari passo. Il Brasile, fra tutti i paesi, fra i famosi 25 paesi che noi andiamo a rilevare, vedete un fenomeno che riguarda l'India, la Turchia, la Corea e la Russia, guarda caso proprio i paesi di cui si parlerà nei prossimi seminari di alta gamma, è quello che più fortemente ha incrementato questo senso di identità. In un certo si potrebbe dire anche di orgoglio per la propria cultura e le proprie radici. Anche questo è un punto di cui tenere conto, ovvero il riconoscimento di quelli che sono elementi di tradizione che il consumatore brasiliano apprezza senza per questo chiudersi rispetto a ciò che arriva dall'esterno. Questi sono dei lifestyle statements, sono delle affermazioni, stanno un livello diciamo più vicino agli orientamenti comportamentali, i valori sono dei grandi principi di riferimento. Qui invece ci sono come vedete degli item che fanno riferimento a degli atteggiamenti, a dei modi di vivere la propria vita. Abbiamo estratto quelli sui quali i consumatori brasiliani sono più caratterizzati rispetto alla media. Al primo posto con un consenso del 61% c'è the right balance between work and leisure. Questa idea del mantenere un giusto equilibrio, questo è un tema che riguarda tutte le società sviluppate in cui a volte il lavoro tende a prevaricare, a prendersi tutto il tempo. I brasiliani che amano molto la qualità della loro vita, il piacere del vivere, mettono, guarda caso, al primo posto questa preoccupazione, cioè fare in modo che l'impegno lavorativo professionale non vada a scapito del piacere di vivere. Interessanti anche i due successivi. Un investimento elevato sulla propria casa, sulla dimensione domestica, la mia casa rappresenta quello che io sono e ciò a cui do valore, non che questo non sia vero anche altrove, in Brasile sembra esserlo particolarmente. E il terzo è importante gratificare me stesso, quindi ancora una volta la dimensione del piacere, dell'autogratificazione come elemento distintivo. Al quarto posto c'è un aspetto molto significativo perché ci dice che il consumatore brasiliano, nonostante sia in questo momento coinvolto in un processo di crescita economica, di aumento del benessere, non associa a questo un conformismo, un desiderio di allinearsi, quindi acquistando prodotti e marche in quanto status symbol o in quanto giuste perché è la maggioranza a pensarla così. Non mi sento costretto dalle aspettative sociali, mantengo un grado di libertà e di autonomia, anche questo un elemento importante ad esempio nella comunicazione di impresa. Ma d'altra parte è importante comprare marche che hanno notorietà e prestigio, c'è un'apertura ai nuovi prodotti e ai nuovi servizi, c'è un generale atteggiamento di disponibilità verso la novità. Questo è un dato tipico di tutte, un dato culturale che accompagna le fasi di crescita e di espansione in cui il benessere che si raggiunge rappresenta l'opportunità, non vale di per sé, ma vale in quanto offre l'opportunità di fare nuove esperienze. Adesso vediamo due, a questo mi pare, questi sono gli argomenti di interesse, gli argomenti di interesse sia per quello che si va a leggere, sia per la conversazione sociale. Ecco, sono, vedete, su almeno quattro di questi, la moda e bellezza, economia-finanza, il tema ambientale che ritroviamo e le auto, ma ce ne sono almeno due che fanno esplicito riferimento a degli ambiti di consumo, il consumatore brasiliano si dichiara particolarmente interessato, particolarmente interessato a fare oggetto di scambio sociale, di conversazione e anche di apprendimento sia l'area della moda e della bellezza, quindi dell'immagine di sé, in qualche modo sia anche quella dell'auto. Un dato che ci ha sorpreso fino a un certo punto, perché in realtà questo è semplicemente il dato sui servizi finanziari, sui prodotti finanziari, credo che la cosa interessante sia quella presenza di carte di credito e di debito che è significativamente più alta sia del resto dell'America Latina che anche della media globale. È tipico anche questo di fasi di espansione in cui il consumatore usa strumenti come questi perché gli consentono di consumare anche magari in qualche misura indebitandosi seppure a breve. La tavola successiva fa riferimento alle attività all'uso di internet e qui io ho messo in evidenza due dati in cui i consumatori brasiliani sono decisamente sopra media, questo ovviamente sono percentuali calcolati su chi ha accesso ad internet, lo shopping online 54%, quindi oltre la metà di chi usa abitualmente internet, utilizza anche internet per fare acquisti e ancora più elevata, 77%, la percentuale di chi utilizza internet per recuperare informazioni sui prodotti che ha intenzione di acquistare. Quindi la rilevanza dell'online per questo segmento di consumatori appare decisamente molto molto elevata. Veniamo a dei dati che fanno più riferimento a quella che è la congiuntura che stiamo vivendo. Noi siamo in questo momento immersi, lo sappiamo tutti bene, in un clima che è tutt'altro che ottimistico e positivo, siamo tutti molto preoccupati di quello che sta accadendo o che potrebbe accadere alla nostra economia e quindi anche ai nostri consumi. Il clima che invece stanno vivendo i brasiliani è ben diverso. Questo è un dato che, scusate ho dimenticato di dire all'inizio, questi dati sono dati dell'inizio, di febbraio-marzo del 2011, quindi inizio dell'anno. Però in ogni caso, guardate come tra i 25 paesi, il paese in cui la preoccupazione per recessione, disoccupazione, inflazione o situazione economica personale è più basso è proprio il Brasile. Non che non ci siano, c'è comunque un 25% che è molto preoccupato, ma in altri paesi le percentuali sono decisamente più elevate. E se si guarda al futuro, si vede addirittura che l'84%, quindi una percentuale decisamente molto alta, è fiducioso che le cose andranno meglio nel prossimo futuro. Anzi, la domanda fa riferimento ai prossimi 12 mesi. 84% di ottimisti. Una percentuale che colloca il Brasile, inizio 2011, tra i tre paesi, insieme all'India e alla Cina, che hanno una percentuale di ottimisti superiore al 66%. Ci sono solo tre paesi che si collocano così in alto, il Brasile è uno di questi. Questo è l'ultimo dato che mostro, dove si vede che a questo ottimismo e a questa visione positiva del futuro, si accompagna anche una crescente fiducia, non solo nel governo, che evidentemente viene visto come in qualche modo responsabile anche partecipe della fase di espansione che sta vivendo l'economia brasiliana, ma fatto abbastanza ancora più significativo, un atteggiamento più positivo che in passato nei confronti delle imprese sia nazionali che globali, che straniere. Quindi anche da questo punto di vista un elemento di clima, di clima sociale, di clima culturale favorevole alla presenza e all'entrata di nuove imprese e di nuove marche sul mercato brasiliano. Io mi fermerei qui. Grazie a Paolo Anselmi.